buongiorno amici buongiorno amiche anche oggi un nuovo video un nuovo adattatore eccolo qua assomiglia vagamente a un mouse ma non è un mouse è un adattatore android wireless activator questo è quello che io attualmente uso al posto di AA wireless perché mi trovo bene e trovate il video di questo gadget che vi consiglio sempre nel canale CinaDeals questa è la scatola del box di oggi questo box assomiglia ad altri che ho già recensito però voi capite che i miei sono video informativi quindi magari chi si imbatte in questo prodotto su Amazon o comunque su internet si chiede quali caratteristiche abbia io con questi video cerco di dargli una breve inquadratura quindi magari sto recensendo dei box che si assomigliano ma lo faccio anche a scopo informativo allora tornando a questo box non fa altro che rendere wireless un android auto che attualmente sulla vostra auto risulta essere via cavo lo fa bene l'installazione è rapida lo sto provando da un paio di giorni e tutte le volte che salgo in auto automaticamente e velocemente vengo collegato ad android auto via wireless ha un'interfaccia con la quale è possibile fare gli aggiornamenti e io ho trovato un aggiornamento l'ip è il 192.168.1.101 ma lo troverete scritto nel manuale presente nella scatola il menu che si trova per fare gli aggiornamenti ho visto che assomiglia vagamente a quello di 8cast 2x il quale per 8cast 2x era un prodotto che trasformava carplay cablato in carplay wireless e android auto wireless questo funziona senza carplay quindi è un adattatore android auto puro quindi se avete un android auto wireless questo lo renderà via wireless punto e stop altre informazioni che vi do non è possibile il cambio dei dpi alcuni di voi a questa informazione me la chiedete spesso non è non è possibile il cambio dei dpi quindi si possono fare solo gli aggiornamenti via ota quindi ecco un prodotto semplice che funziona bene se lo trovate ad un prezzo interessante su internet secondo me lo potete comprare tranquillamente probabilmente sono box che contengono lo stesso hardware ma che vengono venduti con nomi diversi a noi importa poco l'importante trovarlo al giusto prezzo e l'importante trovarlo che che funziona direi che è tutto vi metterò in descrizione il link per l'acquisto se avete delle domande fatemele tranquillamente saluto pasqui che ci ospita il quadro incornizzato se ci ok qual è il messaggio vedete funziona il chiudi nessun messaggio funziona l'assistente vocale di google e dicevo saluto pasqui gli amici di revotech sempre su youtube e ci vediamo al prossimo video ciao